albano e romina nonni è giallo sulla risposta sociale nome di loredana lecciso lo screenshot di un commento scritto su facebook con il nome di loredana lecciso avrebbe confermato la gravidanza di cristel carisi ma il dubbio che si tratti di un fa chi avanza e scatturisce da un dettaglio con una nota dei suoi legali diffusa da adancronos loredana lecciso ha annunciato azioni legali per un post verosimilmente ascrivibile ad ignoti apparso sul profilo instagram di romina power qui la nota albano e romina power stanno per diventare nonni l'interrogativo alleggia da quando il settimanale di più ha mostrato lo scatto della loro terzo genita cristel carisi sorridente con quello che sembra un bel pancione sulla vicenda i diretti interessati non si sono espressi e il dubbio sarebbe rimasto tale se non fosse che è iniziato a circolare lo screenshot di un commento che attesta la gravidanza della donna si è vero è incinta di un maschietto nascerà ad aprile ditelo ai giornalisti fate girare la foto e la notizia io non vi ho detto nulla si legge nel commento che pare provenire dall'account facebook di loredana lecciso compagna di albano il nome è il suo e anche la foto corrisponde all'account facebook di loredana lecciso che però ed è qua che viene il dubbio sull'effettiva corrispondenza tra autore del post e identità della donna sul social compare come loredana lecciso bis non come loredana lecciso albano e romina nonni è giallo sulla risposta sociale a nome di loredana lecciso evidentemente informata dell'accaduto romina power su instagram ha postato lo screenshot incriminato corredandolo con la frase un post interessante poi cancellato davvero loredana lecciso potrebbe aver confermato in questo modo la notizia della gravidanza di christelle il dubbio resta anche per la brutalità di una frase che riesce difficile possa essere stata scritta in maniera così netta rispetto a una situazione che evidentemente qualora fosse vera si è voluta tenere riservata romina power dal canto suo poco fa ha postato una foto che la ritrae appena nata con la sua mamma e il papà quando i miei mi hanno presentato per la prima volta avessi potuto immaginare il seguito mi sarei data per malata ma allora forse pensavo ancora che il mondo fosse bello e giusto ha scritto la power una frase che risuona carica di amarezza